Loro sono già una squadra superiore, prima in classifica, ma hanno giocatori di altissimo livello, da Eusebio al portiere, insomma, Nico Bosci davanti, quindi complimenti a loro. A noi ci mancavano tre titolari, ma non è una scusa. Avrebbero, secondo me, comunque la squadra più preparata del torneo. Una sconfitta questa, che comunque sarebbe stata un'occasione importante per portarsi nei piani più alti della classifica. Come cambiano i vostri obiettivi, se cambiano?